Ariete, state godendo di una fase di buona forma fisica, di fascino sottolineato da una vivacità che vi rendono simpatici e desiderati? Toro, potete continuare nelle operazioni che avete avviato nei giorni precedenti senza aspettarvi molto ma anche senza correre rischi? Gemelli, una smodata voglia di essere al centro dell'attenzione sottrae energie produttive che potreste utilmente impiegare in un altro modo? Cancro, previsti soldi in tasca non per l'astuzia che fa acqua ma per l'intuito e per le stelle generose che vi sostengono a spada tratta? Leone, l'ultimo flort avviato sta diventando troppo impegnativo, non siete ancora pronti per affrontare una nuova storia sentimentale? Vergine, avrete da gestire un rapporto complicato, meglio non prendere di punta le cose, girateci intorno e aspettate il momento giusto? Bilancia, la prudenza consiglia insieme alle stelle di essere pazienti in amore e tacere in attesa che qualcosa cambi nel vostro cielo? Scorpione, le sollecitazioni delle stelle hanno un benefico effetto sugli impegni di lavoro, agirete in modo coraggioso e intraprendente? Sagittario, vi sentirete pimpanti ed efficienti, la settimana si presenta decisamente sotto buoni aspetti per quanto riguarda la forma fisica? Capricorno, è possibile qualche momento di tensione, una certa irresolutezza che vi fa tentennare a lungo prima di prendere una decisione? Acquario, ridimensionate un pochino le vostre aspettative, avete fatto progetti da gigante ma di un gigante non ne avete le caratteristiche al momento? Pesci, umore altalenante, tutta colpa della luna, eppure il cielo per voi è positivo, dovrete impegnarvi ma il successo è assicurato Arrivederci 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 Arrivederci